Commento intelligente di ulteriori protezioni per vivere nella natura. L'essere umano invece esce ed è subito protetto da altri esseri umani ansiosi ed indottrinati che vivono secondo le regole e le procedure contro natura. Nel video del test laser del 3 settembre 2024 un utente ha fatto un commento molto intelligente. Ma perché il laser è stato posizionato a 8 metri di altezza e non a 1? Ho fornito una risposta indicando alcuni video, dimenticando che a seconda delle condizioni atmosferiche, vale a dire temperature e vapore acqueo si crea il miraggio superiore. Trovate la voce su indice alfabetico. Inoltre vi ricordo di visionare il video Atmosfera, quanto potremmo vedere lontano senza l'aria, timelapse sul lago per vedere quanto la visibilità subisce e modifica la veduta a seconda del variare di questi parametri. Qui potete vedere chiaramente l'effetto di ostruzione nella parte bassa a causa della rifrazione che crea il miraggio superiore. Osservate attentamente che sotto la linea rossa viene riflesso a specchio la prima parte di quello che si trova sopra. Questo effetto che viene definito a volte effetto Morgana nasconde quello che si dovrebbe vedere. infatti sui laghi di acqua dolce con temperature miti l'effetto è minore se non assente. Ecco il motivo per cui suggerisco di posizionare sempre o di mirare oggetti che non sono a livello dell'acqua ma a determinate altezze superiori quando la ripresa viene fatta a pochi centimetri dall'acqua e consiglio per le vostre riprese di posizionarvi sempre oltre due o tre metri per evitare questo tipo di miraggio. Nella playlist Esperimenti FE PERT FE sta per FLAT EARTH trovate molto materiale utile per imparare altre cose grazie ai suoi video. Grazie di aver guardato. Dino